Per Invesco le reti italiane sono ovviamente fondamentali nella nostra distribuzione di prodotti ISG. Quello che abbiamo notato però e soprattutto dagli studi recenti di CONSOB e di ISG non è ancora presente nella domanda. Quindi riteniamo che sia molto importante il ruolo che Invesco sta prendendo nell'ambito dell'informazione che vogliamo dare. Per noi ISG significa aggiungere alla nostra valutazione e integrare i fattori ISG nell'ambito delle nostre valutazioni finanziarie, quindi è qualcosa che rimane e che diventerà sempre più parte del nostro DNA. I fattori di ISG sono fattori non finanziari che diventano sempre più complessi, sempre più sofisticati e di cui non possiamo più fare a meno nell'ambito anche delle innovazioni, della crescita economica e dei valori economici che fanno parte stessi delle valutazioni finanziarie e di conseguenza dobbiamo fare capire com'è che questi fattori e quali sono i fattori rilevanti che rientrano nelle nostre valutazioni perché magari non li si vede nell'ambito delle decisioni di investimento. Quindi questa è un'attività alla quale noi dedichiamo moltissimo tempo. Lo facciamo anche in partnership con università e in particolare lavoriamo con l'Università di Cambridge attraverso con la quale collaboriamo con sia corsi, sia a livello di white paper, a livello di studi che ci permettono quindi di avere dei dati a disposizione, delle ricerche a supporto del messaggio che vogliamo dare nei confronti dell'ISG.